Batikà vive nel villaggio di Meké in Senegal. Il villaggio negli anni si è spopolato perché non c'era acqua sufficiente per vivere e coltivare, in un ambiente arido e difficile. Fratelli dell'uomo ha scavato un pozzo alimentato ad energia solare, affinché il villaggio e i suoi abitanti avessero sempre acqua pulita a disposizione, in modo ecologico e sostenibile. Il villaggio di Meké è rinato e anche molti di coloro che l'avevano lasciato stanno ritornando per coltivare la loro terra. Fratelli dell'uomo, la realtà solidale.